ed eccoci qua tornati anche questo sabato dufer e boldrin qui sul ring pronti per scazzottare contro il mondo no no cosa cosa sto dicendo michele fermami ciao hai delle brutte intenzioni oggi cattivi propositi cattivi propositi sempre come stai sempre cattivi propositi oggi ti vedo molto elegante se vieni da una riunione d'affare hai venduto hai firmato con una grande azienda cinematografica beh no quello l'ho già fatto la cravatta nera in realtà mi sto riabituando alla cravatta mi sto riabituando alla cravatta bravissimo quindi io mi sono disabituato però ogni tanto nostalgia una volta una gigantesca collezione di cravate poi buttate poi le ho ricostruite ma in realtà me le porto per abitudine antica sempre appresso quando viaggio e non le mai ma io quando viaggio di lavoro dico non si sa mai e butto lì tre quattro cravate poi torno a torno di queste quattro cazzo no io per anni per anni ho messo la cravatta via proprio nascosta perché quando lavoravo prima nel campo della finanza assicurazioni ero costretto a metterle e quindi era un cappio adesso che non sono più costretto invece mi sono ricordato che è un indumento che mi piace quindi ho detto adesso mi riabituo a portarle e quindi e quindi eccola tutto lì è un bel vezzo ma ma bando alle ciance di cosa parliamo ci siamo sentiti un attimo io ti ho suggerito parliamo di ciance parliamo di provocatorio così faccio ascoltare faccio arrabbiare subito i tuoi ascoltatori più fedeli andiamo alle ciance ho suggerito a riccardo e parliamo della filosofia nel senso popolare della parola oggi come luogo della ciancia anzi non dissi ciancia dissi doxa il luogo dove l'opinione non strutturata non disciplinata da fatti e logica si lascia andare e dice insomma la mia opinione quella è la tua opinione è il luogo del questo lo dice lei beh certo in effetti se ci pensi bene non so io non avrei mai l'ardire di avere un'opinione sull'idraulica per esempio ma quando l'idraulico viene a casa mia c'ha sempre la sua opinione filosofica e poi quando si va a chiacchierare si va a ragionare alla fine dei conti quando lo si mette di fronte anche le sue contraddizioni lui dice vabbè ma è la mia filosofia ognuno ha la sua filosofia e la filosofia giustamente è diventata questa questo sinonimo di chiacchiericcio di di pur parler ecco il pur parler la filosofia e quando invece dovrebbe essere una cosa un po' diversa ecco ma c'è il problema lì è l'evoluzione a mio avviso è stato la filosofia una volta era cioè la filosofia nasce come il tutto e quindi nasce letteralmente come il pensiero strutturato e disciplinato che cerca di capire e poi mano a mano secondo me è vittima del suo successo la filosofia classica occidentale quella di 2500 e passa anni fa no è vittima del suo successo nel senso che progressivamente ha prodotto la matematica la geometria la fisica e via andando l'ultima anche l'economia che non è che sia a grandi livelli di scientificità però nasce come filosofia morale di fatto no nella sua versione indipendente poi si indipendentizza si ritaglia il suo orticello di dati comportamenti osservazioni da cercare di capire e diventa una disciplina autonoma per cui è molto divertente che invece la professionalizzazione del filosofo avvenga letteralmente un po più tardi se ci fessi filosofi non sono non sono professori di filosofia integrati in sistemi universitari fino a praticamente hegel credo adesso non vorrei cant cant è il primo che dà vita all'immagine ma era professore in università sì sì cant insegnava anche cant insegnava sì sì assolutamente è da lì è da fine settecento è da fine settecento che infatti il filosofo comincia ad essere l'accademico e commettiamola così o perlomeno quello che ha un ruolo scientificamente riconosciuto dalla comunità questo indubbiamente poi sai c'è sempre da aggiungere un elemento il fatto è che i più importanti lavori che questi personaggi poi hanno fatto li hanno pubblicati quasi tutti al di fuori dell'accademia quindi comunque il vero lavoro del filosofo è rimasto un lavoro voglio dire schopenhauer insegnava però il mondo come volontà rappresentazione non è derivato dalle sue lezioni universitarie è derivato da uno scrive per carità diventa una sì 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 la professionalizzazione è arrivata più tardi secondo me è rilevante che oggi ed io devo dire anche se tutto questo dibattito la separazione fra filosofia continentale filosofia analitica è dannosa alla disciplina eccetera ma in realtà è giusto la filosofia analitica è una branca indipendente ormai della matematica della logica della linguistica con diversi campi che si interscano fondamentalmente è e sono certissimo che molto presto specialmente quelli fra di loro che si interessano di processi cognitivi meccanismi decisionali eccetera eccetera a finiranno a essere una roba indipendente dentro il mondo delle neuroscienze perché di questo si occupano già avviene già avviene in effetti sì sì ma anche formalmente finirà per essere riconosciuta invece quella che si chiama filosofia continentale rimane un pastrocchio ci stavo riflettendo anche l'altro giorno guarda stavo i pittori in casa che santa madonna mi mi stanno diventato mi stanno distruggendo la casa dopo avermi promesso che la sarebbero pulito non importa comunque amorevolmente cercavo di togliere la polvere dai miei libri storici diciamo quelli non in una delle delle stanze della casa ed ero nella sezione della filosofia e e quindi avevo tutti sti libri di filosofia letti tra i 17 e i 35 poi a un certo punto ho calato molto di quello che appunto chiameremo filosofia continentale e guardavo alcune di ste robe dicevo ma guardati dove avevo perso tempo me ma guarda allora qui il discorso è veramente non mi ricordo cosa ho imparato l'altro giorno qualcuno si è arrabbiato ha detto boldrin celtrone ha detto che derrida ha contribuito praticamente niente non mi ricordo cosa imparato da derrida io allora guarda questo c'è un discorso molto ampio da fare allora partiamo da un presupposto e la suddivisione nei diversi campi della filosofia continentale analitica in realtà c'è sempre stata un tempo c'erano i sofisti e gli stoici e poi ci sono stati gli scolastici neoplatoni gli aristotelici ci sono sempre state le cose io quello che può essere magari fastidioso vedo mica così ma vai avanti io credo che io credo che la filosofia sia sempre stato un movimento molto composito ok ciò che può infastidire il campanilismo io una delle cose che per esempio non sopporto io sono un lettore tanto di filosofi continentali quanto di analitici per esempio io recentemente mi son letto questo bellissimo libro di francesco berto che magari tu conosci l'esistenza non è logica lui è forse l'italiano analitico più interessante in circolazione e io leggo tanto lui quanto emil cioran tanto heidegger quanto kripke ok quindi a me infastidisce più che altro il campanilismo cioè il fatto che i continentali cercano di esautorare continuamente gli analitici gli analitici tentano di esautorare i continentali e in questo modo tu non hai magari degli incontri che potrebbero essere molto prolifici perché perché la filosofia nel momento in cui si produce è sempre settorializzata c'è chi si occupa di quella cosa poi oggi ancora di più un po per per le tecnologie un po per l'ampiamento dei saperi un po per l'avanzamento delle scienze oggi forse è un po più specializzata e un po più settorializzata però questa cosa c'è sempre stata quando però noi guardiamo indietro la cosa veramente interessante della storia della filosofia non è studiare i settori ma è studiare le contaminazioni è studiare il momento in cui spinozza da naturalista cerca comunque di interpretare un campo etico dell'esistenza quando kant utilizza da un lato le scienze cognitive del suo tempo e dall'altro cerca di creare una disciplina morale e quindi quando guardiamo indietro la cosa veramente interessante da guardare è proprio il momento in cui i settori vanno poi a confliggere e io credo che le cose più interessanti dell'oggi fra 200 anni di nuovo saranno queste cioè sarà il momento in cui studiando i modi con cui abbiamo affrontato il problema dell'intelligenza artificiale ci andiamo a studiare anzi andranno a studiare perché fra 200 anni io e te mi sa che non ci saremo andranno a studiare i modi in cui parla a nome dell'umanità tutta esatto hanno cercato quando 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 riccardo si sente lui parla giustamente da filosofo parla a nome dell'umanità tutta quindi ecco sono qui a rappresentare l'umano io invece l'inumano il disumano il subumano adesso te lo interrompo perché dopo questa filippica sulla contaminazione che appunto questa mi piace questa l'ora del contaminarsi anche questa è una terminologia di origine ben identificata non mi ha risposto alla domanda ma io da derrida cos'è che dovevo imparare scusa ma derrida allora ti dico anch'io da derrida non ho imparato praticamente nulla nel senso era il punto derrida non è uno di quelli che sono terreni di quella che noi ci chiamiamo filosofia ma ne sono reso conto negli anni o se mi sente scusami se mi sente simone regazzoni che è mio amico arriva qua e mi tira una mattonata ci venga a spiegare io ci ho provato anche se vuoi anzi ricordati un giorno dobbiamo forse anche questa è l'occasione dobbiamo mi devi spiegare che cosa c'è da imparare da Emanuele severino che sia di profondo dobbiamo parlare anche di severino dobbiamo parlare anche di severino e nel senso che io ho cercato di andare alla mia vita filosofica che è lunga per quanto molti si dilettino a ritenere che siccome non c'ho la laurea in filosofia non posso di filosofia di scettare e mi ricordo che per molti anni tutti gli anni fondamentalmente della parecchio tarda adolescenza forse più durante gli anni venti miei tra il 19 e il 29 c'era il piacere della lettura alla fine della quale ti rendevi conto che non era il concetto se c'era un concetto a parte la sua non dico verificabilità ma anche solo vagamente testabilità no del tutto improbabile c'era un piacere della lettura c'era una ragione gadamer era divertente da leggere oddio gadamer divertente si lo so è uno di quei piaceri uno di quei guilty pleasures dai secondo me è scritto bene al contrario del tardo massimo eccetera cacciari che è scritto secondo me male si arzigogola mentre quello di crisis era scritto bene sono contento che anche nella sua recente intervista anche lui abbia riconosciuto che crisis alla fine anche se non diceva nulla di nuovo importava nel panorama istantivo italiano e non professionale pensieri riflessioni che che ci erano sconosciute però alla fine della lettura io mi sono reso conto che su molte di queste cose nell'aspetto concettuale di conoscenza del mondo e di me stesso non c'era poi molto c'erano cose alcune piuttosto banali però era molto bello leggerle leggerne gli esempi la narrazione la descrizione era come leggere appunto prusto un romanzo cioè prusto che ti descrive la vetrata e la luce che filtra dalla vetrata della della chiesa dove lui va e descrive in questi minimi dettagli lo stesso fa la stessa emozione diciamo così leggevo non c'è nessuna differenza fra legge dell'irai leggere battaglia o leggere non lo so appunto bart molto di bart era sono cresciuto e mi pare che vada bene la cosa strana che mi ha sempre colpito e vale anche per altri ecco per esempio un'altra che va assolutamente di moda tuttora a me spaventa invece la trovo assolutamente antipatica è questa pseudo ultra libertaria line rand no se si conosce beh certo che la conosco molto questa ideologa del non so neanche come chiamarlo del cretinismo suprematista dell'uomo libero superman che spacca il mondo il culo al mondo no e lei ha raccontato delle storie che hanno ispirato persone a sentirsi parte di una strano elite di liberi assoluti la cosa tragica è quando si vuole trasformare queste che sono esperienze esistenziali io credo quindi certamente luoghi dove la doxa deve valere per definizione in teorie del mondo ecco questo è la cosa che mi spaventa allora no questo allora cerco diventa teoria del mondo cerco di risponderti se non avete mai guardato a me cerco se quello che dite che è incoerente cerco di risponderti a questo forse va bene ecco cerco di risponderti a questo io credo che il grande errore tu hai stai parlando con un grande amante della letteratura della rend pur riconoscendo che ci sono tantissime cazzate però io i libri della rend li consiglio pure di leggere molto spesso cioè la virtù dell'egoismo rimane un bellissimo trattatello di filosofia secondo me che può essere letto perché all'interno c'è una visione del mondo che perlomeno contrasta con una buona parte del modo con cui diciamo così fra gli anni 40 e gli anni 80 negli stati uniti si vivono certe situazioni la trilogia del detesto la fonte meravigliosa più che altro perché c'è quel concetto di victim blaming che io rigetto totalmente all'interno della rend credo come all'interno di tutti gli autori riconosco alcune cose che sono interessanti altre no l'errore per esempio prendo lei come paradigma di quello che hai detto l'errore enorme è quello di prendere la rend e usarla per farsi una teoria del mondo come tu l'hai definita cioè nel senso io credo di questo sono abbastanza convinto poi magari nel corso del tempo cambierò l'opinione che ci siano diversi tipi e diversi gradi di conoscenza i quali non si auto escludono cioè se io oggi non so mi studio daniel dennet visto che l'abbiamo citato qualche tempo fa a riguardo dell'intelligenza artificiale io riconosco le informazioni che daniel dennet all'interno della sua ricerca mi porta per la comprensione al grado scientifico di alcuni elementi di cui lui va discutendo le scienze cognitive la natura della coscienza l'intelligenza artificiale eccetera eccetera stessa cosa se leggo un libro un po a metà strada come Gödel Escher e Bach di Hofstetter che è un libro a metà strada fra trattato di filosofia analitica e letteratura perché lì c'è proprio della letteratura c'è proprio anche soprattutto quando parla della filosofia zen lui va per vie che sembrano molto distanti dalla trattazione che fa però poi c'è un grado di conoscenza che non ha a che fare con le teorie del mondo ma ha a che fare con vediamo se riesco che vediamo se riesco a dirlo meglio con la somiglianza nei miei confronti cioè aspetta non adesso cerco di chiarire quello che voglio dire io sono un foierbacchiano convinto ok sono convinto che per esempio andare a leggere la bimba adesso adesso te lo dico adesso lo dico sono convinto falouting falouting ragazzi faccio la registrazione qua faremo un pezzo storico leggere che bello essere presi per il culo da mike sto imparando anche io a fare un po lo youtuber allora leggere la bibbia leggere la bibbia per me non ha io sono io ho letto varie volte la bibbia anche le parti più noiose e io credo che non abbia a che fare con conoscere il mondo cioè la bibbia non ti dice un cazzo su come è fatto il mondo e quando la gente si convince di questo lì hai i grandi travisamenti non solo del mondo ma anche di se stessi la bibbia mi serve per ricordarmi a cosa io somiglio cioè per esempio la letteratura mi serve per capire quali sono le cose che mi muovono di più verso un'idea cercare di comprendere meglio perché e in che modo alcuni elementi alcune idee alcune narrazione alcune pagine riescono a interessarmi più di altre se leggo american gods di nil gaiman io non lo leggo perché credo che nil gaiman abbia detto qualcosa sul mondo ma credo che abbia detto qualcosa ovviamente su di sé ma che riesca a tirar fuori qualcosa di me da questo punto di vista heidegger aveva perfettamente ragione tra tutte le puttanate che ha detto nella sua vita e scritto però una cosa l'ha detta giusta la letteratura l'arte e anche una buona parte della filosofia serve non per dirti qualcosa sul mondo ma per svelare alcune parti di te che altrimenti non verrebbero mai fuori ok perciò sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo purché ce ne si tenga in mente ecco e sono anche d'accordo di attribuire questa cosa con te di dire heidegger l'ha messa in ordine l'ha detta bene io nonostante tutto sono tuttora un lettore affezionato proprio di heidegger e credo che uno dei libri che in vita mia ho letto più frequentemente questo farà inorridire molti siano i sentieri i sentieri ininterrotti sono un libro straordinario che è basato tutto su questo però parla solo di me di fantasie mie percezioni basta essere coscienti di questo allora eccolo lì il punto però finisci con il tuo feuerbachismo scusa sì 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 allora al momento sono feuerbachiano anch'io quindi la cosa comincia a preoccupare adesso arrivo a feuerbach ti qualcosa che io non condivido perché se no mi preoccupo adesso magari ci arriviamo il feuerbachiano a 62 anni e mezzo io non lo so se dirò io non lo so se dirò qualcosa con cui sei disaccordo perché potrebbe lacerarmi per sé prefallo Rick di qualcosa vuoi che ti laceri liberami da liberami da questo calice no basta basta io me ne vado Mike me ne vado sarà che fra due giorni finalmente vedo la mia morosa compagna ma oggi sono di particolare buon umore ok bene sono contento ti stai sfogando con l'ironia su di me quindi va bene va bene stasera no sono di buon umore stasera berrò di più per colpa tua no dai sto scherzando ovviamente stavo dicendo per questo Derrida a te non ha insegnato nulla ma leggerlo non significa che non ti abbia creato degli effetti cioè il modo a cui sei arrivato ad alcune informazioni tu non ha a che fare soltanto con le nozioni che hai imparato ha a che fare anche adesso preso Derrida ma possiamo prendere altri mille autori ha a che fare anche con alcuni elementi che forse Derrida ti ha trasmesso ma che non hanno a che fare con la tua conoscenza con la tua erudizione o anche semplicemente con la memoria che hai di quello che hai letto ma ciò non significa che questo sia stato totalmente inutile o dannoso ovviamente le facciamo le letture inutili io ricordo tanti filosofi che ho letto che ho detto fra cui anche Derrida per me per me Derrida è stato un autore on passant che non ho particolarmente apprezzato io ci ho perso parecchio tempo no io per fortuna non tantissimo tempo anche perché io sono arrivato alla filosofia da interessi profondi in critica letteraria per cui grado zero hai capito? certo 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 ma aveva molto preso a 18 anni io credo che il tuo modo di vedere il mondo cioè non la teoria del mondo ma la tua prospettiva sul mondo sia stata formata anche dalle cose che non hanno a che fare con dirette informazioni ma che ti hanno ricordato a cosa assomigli cioè il fatto di rigettare Derrida il fatto di dire Derrida non mi ha dato nulla ti ha comunque permesso di selezionare meglio in futuro le cose a cui avvicinarti e questa cosa è importante ho trovato perché non sono fuoierbacchiano se questo è l'essere fuoierbacchiano ho trovato perché adesso adesso lo faccio arrabbiare hai appena detto una bella tautologia quello che hai detto scapisci vale per tutto certo che vale per tutto nei processi di stimolo, di percezione, di colori, suoni, emozioni eccetera eccetera della mia vita tutto ha contribuito ovviamente a livelli quantitativi diversi la mia mamma ha parecchio di più delle urla della zia Maria però anche le urla della zia Maria avrebbe potuto evitarsene avrebbe potuto evitarsene sarei stato più contento quando avevo sette anni non sentire che gridava a cazzo va benissimo però senz'altro ha influenzato la mia percezione della donna che grida ma questo non può essere la definizione né può essere la giustificazione per cui leggiamo di filosofia ma ovvio poi bisogna andare allora è qui, è qui, è qui no perché qui c'è un rischio qual è il rischio? che mentre le urla della zia Maria, l'odore dei cavoli cotti la passeggiata sfortunata sotto la pioggia mentre speravo di potermi godere il lungomare al tramonto ma senza pioggia hanno lasciato qualcosa, tracce neuronali, la mia memoria, sensazioni eccetera eccetera che mi costruiscono però non mi sono avvicinato a loro con l'intenzione o con l'idea o con la speranza di trovarci verità, spiegazioni del mondo o di capirli mentre ai vari Derrida, Deleuze hai dedicato un sacco di tempo anche Vattimo, adesso per parlare dei più noti o la Randa molti, molti si avvicinano ecco io questa cosa gliel'ho menzionata tempo fa a Gerardo il mio amico psichiatra menzionando Lacan per esempio gli ho detto ti ricordi il tempo perso a leggere ossessivamente i seminari di Lacan nell'edizione quella dei saggi e i naudi io mi sono sentito un uomo più libero e più tranquillo il giorno in cui ho scoperto che non ero l'unico a trovare quelle cose uno sbrodolarsi di parole senza nessuna rilevanza non c'era niente che dovevo capire che io non capivo perché non c'era niente da capire c'era uno in preda a una forma di diarrea verbale che si raccontava e l'occupazione strana del suo cervello con zero referenza ecco se accettiamo che è così per quello io ti ho provocato oggi dicendo un pezzo della filosofia è diventato il luogo della doxa va benissimo però siccome faccio di professione oddio che brutta parola l'educatore o meglio siccome mi interessa capire come funziona il mondo funzionano gli altri e ormai raggiunto a un'età non più troppo giovane ancora sono più o meno a metà del cammin della mia vita vedo gente più giovane avvicinarsi a queste cose mi viene spontaneo dire state attenti ah ma questo non andate sperando di trovare nel god of the machine delle verità profonde sul mondo che non che non conoscete di cui pensate di aver bisogno e se poi non vi sembrano tali vi sentite anche un po' scemi come mi sentivo io quando leggevo appunto la canna o la Lucie Rigari perché non ce n'è è della gente che si racconta si racconta bene ha uno stato sociale questo li ha trasformati in metà pensè però questo sono non sono la stessa roba che leggere Newton assolutamente sì che c'è da imparare Newton è la sua versione diciamo moderna ed è verissimo e questo è un monito che si dà sempre io per esempio questo lo trasformo sempre in un se sei appassionato di Deleuze devi assolutamente andare a leggerti anche anche Patnam devi leggerti appunto Dennett devi leggerti autori che vanno in una direzione completamente opposta perché poi il problema che tu denoti è fossilizzarsi su un certo tipo di autore crearsi la ecocamber filosofica in cui tantissimi oggi cadono però 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 non vorrei che il mio discorso di prima passasse per un va tutto bene non va tutto bene la selezione degli autori e il riconoscimento della cattiva filosofia è fondamentale ed ecco dove subentra secondo me Feuerbach che citavo prima perché ancora non ho esplicitato quel punto lì ah il Feuerbachismo sono ancora sotto rischio esatto sono ancora sotto rischio perché vedi Feuerbach a me ha illuminato quando lo incontrai per la prima volta perché io da ateo di nuovo ateo convinto madonna quante cose convinto in realtà non sono convinto di un cazzo ma è soltanto per è pieno di convinzioni sono convinto anche della cravatta vedi in realtà non dovrei esserlo ma in realtà quello che voglio dire è che leggere Feuerbach mi ha ricordato una cosa che essere atei per esempio non significa non guardare alla religione come a qualcosa di utile ma utile non in quanto essere religioso ma in quanto studiare quello che lui dice nell'essenza della religione per me rimane ancora me lo scriverò fuori dal portoncino di casa un giorno conosci i tuoi dei conosci te stesso cioè cosa significa significa che tutto quanto quello che è manifestazione culturale in realtà a me io che ho capacità di discernimento e di analisi grazie anche alla buona filosofia con cui entra in contatto è indizio per capire meglio il mondo da cui emergono certe cose hai citato Lacan ci ho passato un sacco di tempo io su Lacan e alla fine sono arrivato alla conclusione identica alla tua Lacan era una persona innamorata della sua voce e della sua penna e come tutte le persone innamorate della sua voce e della sua penna in mezzo alle buone idee che può aver avuto però c'è un sacco di 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 brodaglia incredibilmente inutile ok eh però leggere Lacan e avere in qualche modo capito per quanto si può capire Lacan mi serve per avere ulteriori indizi perché il motivo per cui Lacan è emerso in quella data epoca mi serve per capire per esempio anche il motivo per cui Deleuze per cui Derrida sono emersi in quel contesto culturale e tu da scienziato lo sai bene ma quello che ti stai facendo qui adesso è praticamente un tentativo di ricostruzione storica di alcune deviazioni della doxa di perché certe cose affascinano in certi periodi e l'insieme il background per dire senza quella cosa lì senza quella cosa lì non avresti neanche la buona filosofia perché poi la buona filosofia deriva dalla comprensione dei motivi per cui a un certo punto emergono alcune cose quindi sono d'accordo con te non perdete troppo tempo con Derrida con tutti questi ma perdetecene un po' perché altrimenti se cominciamo a leggere soltanto quella che per noi è buona filosofia facciamo l'errore opposto e ci dimentichiamo che se vuoi capire il mondo che ti circonda e se vuoi capire il mondo che ci sta intorno tu devi anche avere consapevolezza del modo in cui negli ultimi 150-200 anni si è fatta cattiva filosofia il modo in cui si è fatta è traccia del tempo in cui si è fatta e radice del tempo che vivi ed è per questo che un po' di tempo deve dedicarcelo non può io detesto quando si si no d'accordo mi va a dire questa cosa mi è venuta d'accordo però permettimi di nuovo il caveat non solo dell'educatore ma anche un po' del vecchietto questa cosa mi è venuta da questa insistenza sul fatto che si studia poca filosofia eccetera ha fatto questo dibattito anche con Massimo Mugnai allora lasciate che aggiunga però a chi ci scusa sì fatelo però solo dopo che vi siete garantiti di aver capito le cose che di sicuro vi servono e cioè solo dopo che riuscite o avete un minimo di consapevolezza del mondo così com'è e non come alcuni si sono immaginati che debba essere o che dovrebbe essere o che potrebbe essere perché altrimenti nel dare troppa enfasi nel pensare fondamentalmente che non sei un vero fra virgolette intellettuale o meglio una persona con un'educazione una cultura appropriata a capire il mondo se non ti sei letto quelli di moda a me terrorizza piuttosto questo questo viene dal questo non è una cosa solo italiana una cosa molto europea che è una sopravvalutazione veramente eccessiva del contenuto cognitivo di quello che puoi imparare da ciò che chiamiamo la filosofia moderna e contemporanea sì 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 è una sottovalutazione di quello che invece puoi imparare del mondo del tuo vivere di te stesso a leggere che so biologia o o neuroscienze ma ancora di più ti dico ti dico io la quantità di ragazzi che dedicano tantissime ore alla can o alla variante di la can e pochissime ore alla geometria certo è piuttosto spaventosa e francamente non è che la geometria sia così più difficile che la can per cui la can la can la can non è difficile è semplicemente incomprensibile cioè nel senso la can la can è semplicemente mona e quindi cosa vuoi farci non non puoi farci nulla la geometria la capisci perché ci sono gli strumenti per capirli la can non ti dà neanche gli strumenti per capirlo neanche linguistici quindi è un problema enorme però ecco io sono molto in linea con quello che dici io sono un po' più radicale in questo cioè io una cosa che ripeto sempre è a scuola eliminate storie della filosofia e fate filosofia cioè gli strumenti di cui parli sono logica teoria dell'argomentazione tu però hai appena suggerito di fare storie della filosofia come? tu guarda che hai appena suggerito di leggere questi per fare storie della filosofia o meglio no no ma io sto parlando della scuola sto parlando del pensar comune o del vedere il mondo in certe sto rispondendo al tuo stimolo del dire prima di fare quello preparatevi gli strumenti preparare gli strumenti significa fare filosofia cioè infatti io infatti credo che questa gente sia assolutamente illegibile e faccia veramente male se leggi loro prima di esserti occupato seriamente a un attimo di capire sì sì tecnicamente la filosofia chiamiamo no? lì ci vuole lì ci vuole una riforma proprio del del modo di pensare non c'è nulla da fare guarda ti dico vabbè adesso il pubblico non capirà quello che sto dicendo perché in realtà stiamo trasmettendo anzi stiamo registrando di mercoledì uscirà di sabato io nel nostro domani cioè giovedì farò uscire un video sul mio canale in cui dirò che sono molto d'accordo con la tua visione sul liceo classico e spiegherò un po' questa cosa cioè nel senso io per esempio sono stato chiamato in un appello su twitter a cui non ho risposto salviamo la filosofia nei licei ma no invece la filosofia nei licei come viene insegnata oggi va ammazzata ma va ammazzata perché perché tu non stai facendo filosofia tu stai dicendo guarda che c'è una persona che si è chiamata Immanuel Kant che nel 1787 ha scritto un'opera dal titolo critica della ragion pura che è divisa in questi capitoli ma cazzo ma un ragazzo di 17 anni ma cosa vuoi che abbia a che fare con quella roba lì e invece devi riuscire a contestualizzarli i problemi cioè per arrivare a capire e a sentire i problemi di Kant perché poi tu perché ti innamori di Kant perché capisci che i suoi problemi sono gli stessi sei innamorato di Kant ragazzi io pensavo che fossi innamorato dell'amorosa quella che ogni tanto sputa invece sei innamorato di Kant Arianna lo sa che io ho delle relazioni intellettuali con persone morte è un po' di necrofilia è un po' di necrofilia peraltro molto orgiastica perché sono molte le persone morte con cui vorrei fare degli atti inconsciuti almeno lì possiamo permetterci lei lo accetta l'ha accettato l'ha accettato a volte sbrocco no quindi il punto è che se tu vuoi far arrivare a far apprezzare Kant a una persona quella persona deve avere alle spalle oltre a una conoscenza un po' più intima dei problemi reali del mondo come dicevi tu però anche un po' di logica un po' di teoria dell'argomentazione ma tu pensa che cioè in 13 anni di scuola non si fa mai un dibattito nelle scuole non c'è mai la possibilità di una volta che si è istituzionalizzato di dire ok prendiamo due idee e cominciamo a scannarci su quelle idee capendo cosa significa sbagliare fare una fallaccia logica cosa significa costruire un'argomentazione è una roba incredibile se ci pensi ma filosofia cosa? è una banale e opaca storia della filosofia quella che si vorrebbe salvare che non serve a nulla da questo punto di vista poi si può anche studiare io non volevo andare oggi hai capito vabbè sì sì no infatti infatti però io sono d'accordissimo e poi da lì da lì in parte le due cose si tengono insieme perché siccome costruisci una visione della filosofia come una sequenza disconnessa di strane idee ma tutte estremamente grandiose questo crea l'immagine che l'attività filosofica sia particolarmente più profonda più vera più interessante più rilevante più necessaria alla tua condizione di diciamo così intellettuale che altre perché invece appunto la matematica la chimica la biologia sono aride mentre la filosofia non lo è quante volte si è sentita ripetere questa sciocca frase no l'aridità delle scienze delle tecniche a fronte della profondità bellezza plasticità della dell'idealismo foyerbacchiano che brutta persona che sei oggi che brutta persona che scherzo divento una brutta persona mi sono beccato anche della brutta basta grazie arrivederci non è tutto oro oro ciò che luce non è tutto pensato ciò che lì va beh insomma mi sono spiegato purtroppo siamo finiti per essere d'accordo ho cercato speratamente di sottolineare le diversità ti lancio un ultimo spunto ti lancio un ultimo spunto ok su questo abbiamo già sforato il tempo quindi sforare due minuti in più non fa male la filosofia ha anche un altro aspetto che è fondamentale perché tu da da scienziato da economista da analista della società diciamo così sei molto più vicino a quella cosa che diceva Hegel ovvero la nottola di Minerva arriva sempre sul far della sera perché? perché l'analisi in effetti arriva sempre un po' in ritardo sulla realtà cioè è inevitabile ne abbiamo già parlato quando parlammo di tale la realtà deve prima accadere prima che il nostro cervello la registi poi ci vuole più tempo di provare a buttare le spiegazioni sbagliate e ovvie la filosofia invece e questa la totalità della filosofia anche quella cattiva ed è questo da cui dobbiamo assolutamente guardarci lavora sui presupposti di come domani si penserà perché per esempio se noi andiamo a guardare una buona parte dei pensa a Deleuze ok Deleuze quando ha scritto i millepiani con il concetto di rizoma eccetera eccetera lui ha veramente messo in piedi il modo con cui una classe intellettuale per 25 anni avrebbe guardato a internet per esempio cioè il filosofo da questo punto di vista produce ma lei l'ha creata per la sua influenza è certo che l'ha creata all'interno di un certo cerchio hanno visto eh vabbè però questo è fondamentale questo è il male capisci che questo è il danno nel senso che il tipo di interpretare l'interno assolutamente irrilevante permette di capire niente seghe mentali totali ok beh in realtà se vai un po' indietro di modo in un certo ambiente perché l'aveva scritto Gilles Deleuze però se vai a guardare indietro per esempio anche Hobbes ha fatto la stessa cosa il leviatano ma ancora meglio il De Cive di Hobbes ha ispirato moltissima della politica successiva ad Hobbes Hobbes non è soltanto uno che ha visto il mondo così com'è e ha detto ah ok questo è il mondo e ne do ragione filosofica ha anche prodotto delle opere che hanno di fatto creato dei movimenti che hanno poi portato ad alcune conseguenze politiche e questo non è solo analisi infatti io sono molto in disaccordo quando spesso si dice la filosofia arriva sempre in ritardo sul far della sera è vero ho capito meglio quello che vuoi dire tu stai dicendo che in realtà stai attribuendo al filosofo usando l'esempio di Deleuze quello che il buon Keynes attribuiva in realtà c'è la famosa battuta di Keynes secondo cui i politici in particolare i grandi leader dei paesi gli uomini che si credono liberi e indipendenti sono in realtà succubi non mi ricordo se dicesse succubi o schiavi o vincolati alle idee di qualche economista morto e non solo di qualche economista nel senso esiste questo elemento però anche di nuovo siamo a una situazione simile a quella precedente quando ho scherzato sulla tautologia certo ma quello è il punto le ideologie si creano le visioni del mondo si creano e alcune che sono più affascinanti di altri perché totali perché appunto mi sembra che l'esempio che hai fatto dell'Aviatano sia ottimo perché è un'immagine una bella immagine che cattura tutto e permette di semplificare la teoria dello Stato la politica la funzione in una maniera estrema e di risolvere molti problemi e dire vabbè a me va bene così facciamo così quindi certo l'ideologia allora Carletto Marx si è inventato una teoria della storia la dialettica le classi i destini la linearità dopo il medioevo venne il capitalismo dopo il capitalismo per contraddizione e scontro arriverà il socialismo sono passati circa 150 anni e nel mondo è pieno della banda di francamente scampati di casa lascia me lo dire lo so che è proibito in questa tua trasmissione ma lo devo dire le cojoni se no posso dire cojoni niente di proibito scappati di casa dico cojoni no no ma benissimo scappati cojoni che continuano a volere la distruzione del capitalismo sono lì ogni giorno a discutere sul crollo le contraddizioni perché altrimenti la legge scientifica del signor Carletto da tre viri non vengono falsificate yet another one more time e cazzo non arriva mai il socialismo andassero a pescare sul sile sul sile e me peschi tantissimo sul sile peraltro c'ho Susanna nell'altro video mi è venuto in mente il sile che passa vicino a casa sua no quindi ecco diciamo così per concludere che cazzo vogliamo concludere che mi sono rotto le palle mi sono rotto le palle di quelli che alla domanda a cosa serve la filosofia ti dicono la filosofia non serve a nulla perché non è serva di nessuno un paio di palle cioè nel senso chi ripete sta frase veramente non se ne può più ragazzi anzi questa è una frase che non è serva è la citazione di Aristotele cioè sempre la classica frase del professore quando il ragazzo va e gli dice e sia serva che padrona come tutti i pensari umani semplicemente io ero così oggi quando mi hai detto di cosa parliamo avevi in mente questa riflessione fatta un po' di giorni fa sul fatto che in ciò che si spaccia oggi per filosofia specialmente nel continente c'è un po' di tutto ci sono anche idee interessanti cioè è diventata come ti ho detto il terreno della doxa della creazione di ideologie questo tuo punto finale secondo me è rilevante perché proprio per questo e per la sua capacità di creare immagini e visioni del mondo questo pensare non disciplinato dai fatti va toccato con e criptonite pure si si va va compreso è un segnale del tempo va toccato con le pinze perché il pensare non disciplinato dai fatti costruisce immagini del mondo teorie non verificabili costruisce appunto ideologia che poi quando affascina crea causa disastri alcuni possono essere anche dannosi io continuo a pensare che l'eterna ricerca della contraddizione che distruggerà il capitalismo e ci darà la pace dei sensi sia una cosa dannosa sono pienamente d'accordo su questo certo 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 hai visto alla fine baci in bocca Mike baci in bocca è andata così che schifo baci in bocca con un fogliar bacchiano da vicenda l'avresti mai pensato avresti mai pensato i livelli di degenerazione a cui la mia vita sta scendendo mi lasciano vabbè dai com'è la roba lì finale che diciamo tutti e due insieme non è tutto noi a ciò che non pensa ciò che non pensa esatto esatto è anche ciò che è foyer bacchiano e di vicenza dai ciao a tutti mi raccomando condividete mi piace iscrivetevi e ciao ciao Mike ciao ciao se apprezzi i miei contenuti video, podcast, articoli, riviste e vuoi aiutarmi a mantenerli per sempre liberi e gratuiti per tutti questo è il link al mio programma Patreon in cui con 2 o 100 euro al mese puoi aiutarmi a sostenere economicamente il progetto 150 persone l'hanno già fatto e non se ne sono pentite tutti i link li trovi in descrizione